Quel che io vorrei sapere è se eventualmente sarebbe possibile nella prossima riunione degli esperti su Covid-19 inserire un medico italiano rinomato, importante, che sta facendo una ricerca molto importante sull'utilizzo della seroterapia sui pazienti di Covid-19. Si chiama Dottor Di Donno e si è aperta in Italia a una grande discussione sul suo studio perché si occupa dei malati di coronavirus, li cura utilizzando sangue iperimmune, plasma iperimmune, suppongo, donato da persone che già hanno superato la malattia. L'importanza di queste terapie alternative era già stata messa in luce da altri ricercatori di altri paesi. Per esempio ho trovato un immunologo clinico Elena Angela Lusi che lavora in Irlanda e che ha pubblicato un focus su questo argomento, nel quale sottolineava come la verifica dei vaccini e di altri medicinali antivirali per il coronavirus richiedono tempo. Invece le immunoglobuline del plasma provenienti da soggetti infettati che si sono ripresi e hanno sviluppato l'immunità contro Covid-19 potrebbero utilizzate come una immunoterapia pronta, soprattutto per i pazienti in rapido, forte deterioramento. Proprio questo sta facendo il dottor Di Donno in Italia e i risultati di questa pratica sono sorprendenti perché tutti i pazienti hanno mostrato una risposta positiva immediata e sono usciti dalla malattia con successo. Alla luce di questi risultati altri ospedali hanno cominciato questa pratica e questo studio in Italia ma quel che noi vediamo è un silenzio fastidioso, preoccupante dei media su queste terapie e questo in Italia ha provocato una reazione per me molto pericolosa della gente sui web social. Cominciano a pensare che qualcuno voglia oscurare queste terapie alternative che in realtà sono, a dire la verità, terapie più vecchie perché potrebbero essere in contrasto con gli interessi delle grandi aziende farmaceutiche per sviluppare i vaccini. Preciso che io non credo che questo sia il problema. Io penso che l'importanza di trovare un vaccino c'è e resta senza dubbio primaria, la prima cosa. Ma visto che ci vuole più tempo per avere la disponibilità del vaccino sarebbe di grandissima importanza diffondere in tutto il mondo i risultati di questa importantissima nuova terapia. Quindi vi chiedo se sarebbe possibile che il dottor Didonno sia ospite ad un incontro web per mostrarci e spiegarci la sua terapia. Volevo soltanto brevemente replicare l'osservazione dell'onorevole Toia. Ovviamente la mia richiesta non era affatto nel senso di pretendere di avvallare alcuna terapia, soltanto di dare un contributo scientifico rispetto ad uno studio che è in corso e che segue tutti i parametri appunto di studio scientifico e che si sta infatti anche svolgendo in altre sedi oltre all'ospedale di Mantova dove si trova il dottor Didonno per appunto dare anche questa voce oltre a quella degli esperti che abbiamo già sentito e che sentiremo poi al netto di tutte le valutazioni scientifiche e di tutte le risultanze che verranno successivamente sulla effettiva sussistenza di prove randomizzate e via dicendo. Un'ultima considerazione alla luce di quello che ha detto correttamente il collega che ha parlato ora prima di me e sulle valutazioni etiche credo che sarebbe importante anche prendere in considerazione un aspetto che riguarda il vaccino che sicuramente prima o poi sarà disponibile per il coronavirus perché poiché non so negli altri paesi ma in Italia c'è la molta probabilità che sarà considerato obbligatorio, sarà reso obbligatorio sottoporsi a questo vaccino e sappiamo bene quanto l'obbligatorietà dei vaccini crei poi delle resistenze dovute a varie ragioni nella popolazione. Credo che sarebbe opportuno fare delle valutazioni approfondite sul confine fra diritto alla salute, obbligo di tutela della salute pubblica e rispetto dei diritti individuali della persona, della libertà di autodeterminarsi soprattutto riguardo alle terapie e praticamente alle determinazioni riguardanti il proprio corpo, la propria sfera corporea perché questi sono aspetti molto rilevanti nel dibattito politico e sociale in corso. Io tengo a precisare che non sono una novax assolutamente ma in alcuni casi soprattutto quando riguarda l'obbligo vaccinale è destinato ai bambini rispetto anche la libertà di autodeterminazione dei genitori che per ragioni le più varie ritengono non necessario sottoporre i bambini alle vaccinazioni specie in questo caso per esempio dove sappiamo che la pericolosità per i bambini di questo virus è molto ridotta sarebbe abbastanza comprensibile che alcuni genitori non intendessero sottoporre i propri figli a questo tipo di vaccinazione quindi chiedo appunto di proporre questo tema fra le prossime indagini. E qui possiamo rilacciarci alla proposta di Francesca di terapie alternative, quello che funziona o non funziona è una sua base dei dati che abbiamo. Noi valutiamo le opzioni scientifiche, diamo delle opzioni facciamo luce sulle varie alternative però naturalmente non indichiamo le terapie da utilizzare bene che si parli delle immunoterapie, signora Donat le possiamo includere nella mappatura che faremo e possiamo sì prendere contatto con lo scienziato che lei ha proposto. Ci sono tre team già di scienziati che hanno registrato grandi passi avanti, non parlo di vaccini ma di cure se c'è una cura le persone inizieranno ad essere più fiduciose e tutti potranno tornare un po' alla normalità ecco spero che ci aiuti a poter entrare in contatto con questo scienziato